Buongiorno, sono molto contento di essere qui e ringrazio il Festival di avermi invitato. Il film che vi faccio con te, è il film che ho fatto in prima anno, sono in un'école di cinema. Il film che ha fatto dal suo primo anno di studio, è il film che si chiama Alfrenois. Non ho tanto voglia di parlare di questo film prima, ma sono totalmente disponibile per parlarne e rispondere alle vostre domande dopo la previsione. Grazie. Grazie.